Ora a colpo, sabato, non lo raggio, minghia, ma con le cani, ma con le cani, gli italiani, andiamo con parte alla torta, il nostro guidatore, dai registra già, sta tutte cose in funzione, Milona dove siamo a dirette? Andiamo a dirette, pilota, sei in pedretto, poco a sinistra, l'inx, l'inx, ok, ora girarei tu dritto, sei, andiamo alla Grecia, andiamo alla Grecia, questi pescatori oggi come stanno? Stanno bene? andiamo a dirette, un po' a sinistra, ma si no, la volum è stata tolta, vedo, c'è stata vuota, o c'è pugliere? Stava tolta, sì, sì, la strada si assegna la carica, che sta assegnata la pusta, sud, 1802, 1802, 1802, 1802, Grazie a tutti.